Si terranno domani, lunedì 6 aprile, alle 10, nella concattedrale di San Catervo a Tolentino, i funerali di Eugenio Gobbi, l'imprenditore di 46 anni morto ieri in seguito ad un malore. Gobbi, titolare dell'azienda Tolentinate Tutto Vetro, era andato a giocare una partita di calcetto con gli amici nel campetto delle Grazie, come era solito fare il sabato pomeriggio. Intorno alle 17, l'imprenditore è tornato nella casa in località Larancia, dove viveva con i genitori, ed è stato colpito da un improvviso malore. Il 46enne è stato a soccorso dai sanitari del 118, avvisati dal padre e dalla madre di Gobbi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sconvolta per la tragedia, la città di Tolentino, dove Eugenio Gobbi era noto per la sua attività imprenditoriale.